Buonasera amici, stasera ho mangiato cazzola, crocchette, crocchette di patate guarda sono venuti tutti buoni, buoni, adesso io posso mettere un pochettino di limone, una andicchia di sole e un poco di pepe pepe dove pepe? come come? guarda che bello, guarda che luna, guarda che mare figlio mio questo io devo mangiare, ciao aspettare non andare via internazionale ciao